Notte di stelle, notte di storia, l'iniziativa del terzo circolo didattico San Nicolò Politi, un evento che cade in occasione della festa del libro. Dalle 18.30 alle 23.30 i piccoli alunni del terzo circolo didattico San Nicolò Politi saranno intrattenuti tra storie, narrazioni, musica, giochi e divertimenti per scoprire il mondo fantastico dei libri. Ma questa iniziativa prevede altri appuntamenti in programma perché martedì 5 aprile gli alunni incontreranno lo scrittore Pino Pace, il 6 aprile incontreranno gli alunni del terzo circolo didattico, in particolar modo le seconde classi, la scrittrice Margherita Asgarlata, mentre giovedì 7 aprile gli alunni delle terze classi incontreranno lo scrittore Food Aziz. Adesso ascoltiamo le interviste che abbiamo raccolto con il dirigente scolastico, la professoressa Francesca Aliotta e con l'assessore comunale Marika Terranova che ha presenziato all'iniziativa. La nostra scuola fa parte di una rete che nel territorio della provincia di Catania coinvolge una ventina di scuole e questo progetto giunge alla quindicesima edizione prevede appunto tutta una settimana di iniziative. Oggi è la serata iniziale, inaugurale ed è una serata che si trascorrerà a scuola perché la scuola deve essere aperta al territorio sempre e quindi ci saranno momenti di lettura, poi ci saranno giocolieri, gioco dell'oca, insomma diverse iniziative, i bambini si divertiranno perché appunto leggere deve essere non una cosa noiosa ma anche una cosa bella divertente. E noi siamo molto diciamo legati a questo progetto e la lettura per noi è molto importante. Infatti nella nostra scuola abbiamo due biblioteche, una per la primaria e una addirittura per l'infanzia perché cominciamo con i bambini di cinque anni a promuovere la lettura. Quindi ci sono questi libri che vengono date anche alle mamme che leggono poi le storie a casa. Credo che sia molto più utile, infatti ringrazio tanto la Preside per aver organizzato questa giornata, questa è la festa del libro che precede di qualche giorno quella che aprirà le giornate della cultura. Quindi abbiamo avuto la stessa idea, infatti il 23 aprile si apriranno le giornate della cultura organizzate dall'amministrazione proprio con una giornata dedicata alla festa del libro dove verranno premiati gli autori locali, anche ci sarà un invito alla lettura con degli autori locali, verranno premiati i donatori. Il libro, certo, ai tempi del social è ritornare al profumo della carta stampata, credo che sia non solo romantico, ma ancora più utile da questo punto di vista perché i social ci hanno allontanati dalla lettura, ci danno una lettura più spicciola, meno approfondita perché di solito vai a leggere quell'argomento e non magari tutto il libro, vai a leggere una pagina, due pagine, la frase e non tutto quello che lo circonda. Quindi ritengo che questa iniziativa, anche da questo punto di vista, sia ancora più lodevole perché riporta i ragazzi a contatto con quella che è la vera e propria conoscenza, la lettura e sfogliare un libro.